ecma 2018 siamo ancora live dallo stand sim questa qui è la nh 125 x il motore è un 125 monocilindrico raffreddato ad aria fa il pari con la sorella avventuriera che è la t il motore in grado di erogare 7,5 kilowatt di coppia di potenza massima scusate 9,5 newton metro di coppia la linea è molto sportiva ed è anche qui davanti il frontale molto aggressivo il faro ea led le frecce no abbiamo un disco dal profilo margherita l'anteriore la pinza è ad attacco radiale vedete qui forcella tradizionale non a steli rovesciati la sella è molto bassa da terra vedete anche io che non sono altissimo tocco agilmente bene con tutta la pianta la posizione di guida è comoda e rilassata la strumentazione che è qui è digitale vedete questo quadro strumenti qui digitale poi dopo sotto ci sono gli indicatori chicca veramente utile è la presa usb per ricaricare il telefono o il navigatore insomma strumenti tecnologici che vanno tanto di moda in questo periodo arriverà in italia a breve il prezzo sarà super competitivo 2300 euro e non mancheranno ovviamente le offerte di lancio tipiche di sim e voi che cosa ne pensate della nuova nh x 125 fatemelo sapere nei commenti qui sotto se vi è piaciuto il video lasciateci un like iscrivetevi al canale non dimenticate di seguirci su www.motorbox.com al prossimo video ciao